weee non fare il tacco incacchiato da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daieee weee bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi ultime due musica 7 da trovare la prima si trova a periferia astrale nel palazzo nel palazzo questo qua grande ragazzi dove c'è la cupola sul tetto bisogna raggiungere il letto matrimoniale che si trova al penultimo piano in questo momento è stato distrutto ma il letto è qua e sopra al letto matrimoniale prendere la prima musica 7 musica 7 numero 1 presa per la seconda musica 7 invece bisogna andare ragazzi a gotham la città che conosciamo tutti e dobbiamo arrivare esattamente di fronte al teatro quello che si trova in poche parole al bordo della città una volta che atterreremo esattamente in questo punto qua davanti troveremo la musica 7 numero 2 io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live su twitch ciao